Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su GTA V per fare un video dove vorrei discutere insieme a voi quello che sta accadendo a GTA V in quest'ultimo periodo dato che comunque GTA V si è preso una botta di vita ultimamente e insomma sta risalendo in un modo incredibile ma no come ve lo aspettate voi o comunque come crediamo tutti quanti, in un modo molto diverso GTA V è uscito nel 2013, ha i suoi anni che si porta dietro, se li porta abbastanza bene e Rockstar continua ad aggiornarlo tranquillamente, continua a farci DLC, insomma a farci rimanere a giocare su GTA V oh è un gioco di 6 anni, vuol dire davvero la gente continua a giocarci un sacco quelli che continuano a giocarci a GTA V sono le persone che li piace davvero tanto il gioco oppure lo hanno appena comprato da poco, dopo un anno, due anni, ancora devono farsi le ossa diciamo oppure le persone che giocano competitive e li piace insomma fare la competizione con altri giocatori e diciamo anche a me piace solo su PC fare un po' di competitive quando trovo le persone e sfotterle insomma farle incazzare perché mi piace flammare così però oltre a questo, di che cosa vorrei parlare? beh GTA V oltre all'essere GTA V vero e proprio si è staccato, si è staccato una parte cioè si è creato un figlio di GTA V, una cosa piccolissima che tempo fa era piccolissima ma che sta diventando sempre più grande, specie nell'ultimo periodo e io diciamo ci gioco a questo figlio da un bel po' di tempo, c'è 6-7 mesi quindi diciamo un po' di esperienza ce l'ho di che cosa sto parlando? Sto parlando della parte di GTA V roleplay che cos'è il roleplay? Il roleplay è simulare quello che accade nella vita reale o meglio simulare quello che accadrebbe nella vita reale tu ti puoi creare un qualsiasi personaggio a tua voglia o una persona che fa le rapine, una persona che va a fare, che ne so, guerre così o una persona tranquilla che si mette lì, lavora, fa lavoro onesto che magari fa qualche intrallazzo quella e qualche fregatura però simulando sempre quello che accadrebbe nella vita reale quindi che se ti puntano una pistola, sei da solo, non hai un'arma hai paura e devi avere paura, devi mostrare paura tutto questo naturalmente è relazionato con altre persone che 32 persone in totale e in alcuni server addirittura 64 persone in un singolo server che si parlano tra di loro questo è fenomenale e la gente lo sta capendo la gente... e io già questo lo facevo da un bel po' di tempo perché mi divertivo, mi piaceva a me in primis quindi non ho mai portato nulla sul canale perché tenevo il fatto che poteva non interessarvi però se vi può interessare qualcosa beh potrei portare qualche estratto di live perché inizierò a fare su Twitch dove le parti più divertenti appunto le carico sul canale comunque ritornando a che cos'è il roleplay io voglio che sia chiaro il fatto che il roleplay non è GTA cioè GTA V roleplay è totalmente distaccato da GTA Online non ci sono rapine a mozzo non ci sono macchine che si fanno i 400 km orari sulla spiaggia macchine sportive fanno i salti tipo alla James Bond non lo so non accadrebbe nella vita reale questo quindi non si fa quindi bisogna chiaramente capire come funziona il meccanismo di GTA V roleplay e io vi invito tutti quanti a provarlo per giocarci bisogna usare il PC è il gioco comprato GTA V normale dopodiché è semplicissimo installarlo comunque di quello che volevo discutere insieme a voi non era tanto come funziona il roleplay ma era semplicemente per darvi una nozione base e quindi una piccola spiegazione perché poi il resto lo capirete giocando naturalmente gli errori si fanno ah per carità tutti quanti fanno errori io ho fatto errori in primis cioè facendo qualche cazzata addirittura il mio primo inseguimento in roleplay quando ancora non sapevo niente che cazzo funzionasse in sostanza me ne andavo saltando con una macchina rubata quindi il fatto che ad esempio la macchina sia rubata quella te la devi comprare quindi se è rubata la polizia lo viene a sapere e insomma ti viene a seguire e io il primo inseguimento è stato praticamente in autostrada presi delle rampe e saltai tipo 30 metri di salto effettivamente una cosa del genere nella vita reale non potrebbe accadere o meglio se accade perché comunque ti vai a schiantare quando atterri non atterri bene e riparti e te ne vai di nuovo no ti fai male e quindi devi simulare devi essere anche bravo a simulare quello che succede nella vita reale e quindi dovresti simulare che ti sei fatto male naturalmente le persone dicono ma che cacchio di gioco è così c'è simulare non simulare io vi dico che in realtà ultimamente la moda di GTA 5 roleplay sta esplodendo infatti dovreste vedere un bel po' di video visto che molti youtuber si stanno approcciando al roleplay quello che volevo dire appunto è che GTA 5 così da nulla è rinato cioè è rinato una parte che non è GTA 5 cazzeggio bensì un GTA 5 serio appunto perché è serissimo ti ci puoi divertire con le piccole cose o con le puttanate cioè puoi fare davvero tante cose poi il fatto di poter parlare con altre persone che cominciano a fare di tutto in RP è qualcosa di fenomenale comunque Rockstar credo che in un certo senso ci abbia visto lungo e non li dispiaccia del fatto che una parte di questo GTA sta crescendo e si sta distaccando un attimino da quello che è realmente GTA ovvero fare salti destra e manca usare l'RPG in mezzo alla strada come se fosse nulla e quindi non credo che Rockstar dispiaccia questa componente di roleplay bensì credo che gli faccia anche piacere fino a un certo punto chiaramente fino a quando non intacca troppo i guadagni sicuramente gli fa piacere magari presto ci faccio anche un video dove vi mostro e vi faccio capire meglio come funziona quello che volevo chiedere a voi è che cosa ne pensate voi appunto di questo distaccamento di questo secondo GTA perché alla fine il gioco base è lo stesso ma le regole sono totalmente cambiate quindi è un nuovo gioco vi assicuro che GTA 5 roleplay ma come qualsiasi altro gioco roleplay è un gioco nuovo c'è un gioco tutt'altro da vedere infatti io onestamente gioco pochissimo a GTA online ma ci gioco molto di più a GTA roleplay fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate voi non c'è bisogno che vi devo fare ogni volta qualche domanda insomma se avete qualcosa da dirmi qualcosa in contrario fatemelo sapere qui sotto nei commenti soprattutto se giocate a GTA 5 roleplay e se volete dei video di GTA 5 roleplay degli estratti di live divertenti sul canale fatemelo sapere con un bel like ma soprattutto con un commento perché voglio capirlo bene fatemi sapere questo che è importante e detto questo ragazzi spero che ci siamo un attimino così confrontati bene e noi ci vediamo al prossimo video lasciate un bellissimo like e ciao ciao